sono sempre stato appassionato dall'arte in generale quindi mi sono subito innamorato dello skateboarding quando avevo dieci anni e lo skate mi ha portato ad amare anche musica arte in generale foto video su questo ho strutturato un po anche la mia vita essere uno skater essere un creativo è molto connesso anche con la motocicletta il fatto del customizzare di creare qualcosa da una cosa vecchia di tramutarla in qualcosa di nuovo è una cosa che mi affascina tantissimo grazie a tutti grazie a tutti